Pizzeria dai fioi, vicino al centro dell'isola del Lido, fra il Casinò e Malamocco. Posto tranquillo con vista sul tramonto della laguna, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici da chi proviene da Venezia. Oltre ad un'ottima pizza, si possono gustare dei deliziosi piatti della cucina casalinga. Comodamente raggiungibile dalla spiaggia, ampio plateattico estivo, con vista nella laguna di Venezia. La mamma e i fioi sono sempre attivi, aperto tutti i giorni, con una fantasiosa varietà di pizze ed ottimi piatti di carne e di pesce. La pizza con l'impasto di soia e camut è davvero leggera e croccante. Pizzeria dai fioi, anche a domicilio, la trovi in via Malamocco 5A, al Lido di Venezia. Telefono 041 77 07 07 Pizzeria dai fioi, anche a domicilio, la trovi in via Malamocco 5A, 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 a domicilio, la trovi in via Malam